È dedicata alla creatività baltica, l'edizione 2019 di Sentieri Illustrati, l'annuale evento espositivo allestito a Pordenone dal Centro di Iniziative Culturali per promuovere l'illustrazione per l'infanzia, una forma d'arte che accompagna l'uomo dai suoi primi sguardi verso la vita e che sa educare alla libertà, ai sentimenti e soprattutto alle emozioni. Si intitola Running with the Wolves, Correndo coi lupi, la mostra è inaugurata nei giorni scorsi nella Galleria Sagittaria, al centro a casa Zanussi di Pordenone, un percorso espositivo affidato alla selezione dell'artista estone Viv Noor, con opere di 38 illustratrici provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania. Spiega Noor che il bosco ha sempre un posto nei nostri cuori e di fronte alla minaccia della sua distruzione arruffiamo il pelo nuovamente pronti a lottare. L'idea di questa mostra è nata nel 2015 a Matera, durante una mostra sui lupi. Il mio sogno è sempre stato quello di fare questa mostra insieme a degli illustratori italiani e finalmente ci sono riuscita perché prima o poi quello che deve succedere, succede. Un messaggio appello di non poco conto e di grande attualità legato a un mezzo quello dell'illustrazione per l'infanzia ricco di creatività e poesia, con il valore aggiunto di una presa diretta capace di favorire una maggiore sensibilità ambientale e conseguenti azioni concrete. A partire dai più piccoli che possono realmente essere educatori degli adulti, la mostra sarà liberamente visitabile fino al 7 dicembre dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19 integrata da molti laboratori per le scuole. Tutte le info si trovano su centro-cultura-pordenone.it Tutte le info si trovano su centro-cultura-pordenone.it